Signore e signori, buongiorno. Ci troviamo al Teatro Tenda di Pergine Valsugana, vicino a Trento. Oggi è il 14 luglio del 2011 e abbiamo con noi Antonio Salines. Intanto è la seconda volta che ci incontriamo a breve raggio di tempo, però per tutt'altro tipo di spettacolo. E sì, questa volta affronto per la prima volta in vita mia l'opera lirica, anche se mio padre era musicista, quindi ero sempre dentro il mondo della lirica. Io fin da bambino ho sentito tutti i cantanti che venivano a casa mia e mio padre gli insegnava tutte le opere, da Rigoletto appunto, una delle più famose, alla Traviata, Forza del Destino, insomma tutte le opere. E quindi insomma sono in questo senso figlio d'arte, però non mi ero, questa è la mia prima regia dell'opera lirica e quindi sono contento di aver affrontato questa cosa. Domani c'è la prima, sono molto soddisfatto di tutto, speriamo che vada bene come si dice. Ecco, ieri sera ho avuto modo di assistere alla prova generale, è stata così realistica che addirittura quando si doveva manifestare un forte temporale poi c'è stato per davvero. Sì, infatti quando c'è stato il temporale purtroppo sotto il teatro Tenda abbiamo dovuto sospendere le prove, però era proprio il temporale che c'è nell'ultimo atto della tempesta di Rigoletto quando appunto muore Gilda, viene ammazzata da sparafucile, lì c'è questo temporale che è sottolineato dalla musica in un modo geniale, insomma. E però ieri c'era davvero, quindi abbiamo anticipato tutto quello che succede nel terzo atto, nel primo atto si è sentito questo grosso temporale. Infatti poi era molto suggestivo perché si sentiva battere prima la pioggia, poi addirittura la grandine sul tendone e in più si vedevano i lampi che sembravano opera di Salvo che è lo scenografo. Infatti nel terzo atto ci sono anche i lampi, soltanto che prima li abbiamo visti veri e poi li abbiamo visti fatti con le luci. Infatti, ecco allora dicevamo, primo approccio con l'opera e si parte subito con una delle più importanti, quantomeno per la storia dell'opera in Italia, vale a dire il Rigoletto di Giuseppe Verdi. Sì, veramente questo Rigoletto è una cosa splendida, come tutte le opere di Giuseppe Verdi tratto dalle grandi opere teatrali, per esempio L'Otello da Shakespeare, questo da Vittorogò. Infatti io mi sono molto rifatto all'opera originale, all'opera teatrale, infatti io in questo lavoro recito dei pezzi tratti da Ressi di Verde di Vittorogò. E devo dire che il genio proprio di Verdi che con la musica, attraverso la sua musica, ha veramente sintetizzato tutta questa grande opera di Vittorogò, che purtroppo non si fa quasi mai in Italia, ma varrebbe la pena di farla, quasi quasi mi propongo io qualche giorno perché mi piacerebbe fare questo Ressi di Verde di Vittorogò. E appunto in questa opera io recito alcuni monologhi del personaggio Rigoletto, che non si chiama così in Vittorogò, ha un altro nome, si svolge Rigoletto a Mantua, invece qui si svolge a Parigi. Però io recito dei monologhi di Rigoletto, quindi è un po' come se fosse Rigoletto il suo doppio, io recito i pezzi negli intervalli di un atto e l'altro che sono il pensiero di Rigoletto. E vediamo Rigoletto in scena, muto, fermo, che guarda il pubblico come se pensasse le parole che dico io. Io faccio parte qui dell'orchestra, mi metto in orchestra e voglio assolutamente scomparire, si sente solo la mia voce. Quindi questa è un'operazione, un misto tra musica e teatro, certamente prevalentemente ha spazio più la musica perché l'opera è quasi tutta intera, però in mezzo appunto a questi tagli che ci sono stati, evitare il coro che era una spesa eccessiva per peggine e teatro, abbiamo messo tutto quello che è il pensiero dell'opera di Vittorogò, il pensiero del personaggio Rigoletto nell'opera di Vittorogò. E quindi ha un effetto abbastanza spiazzante, nuovo, ma accompagna alla chiarezza del testo. Quindi credo che a volte noi vediamo l'opera, sentiamo la musica e tante cose del testo ci sono incomprensibili e quindi qualcuno segue il libretto per seguire meglio l'opera. Ecco, in quel caso lì io credo questo sia anche un aiuto per un pubblico digiuno di opera e segue proprio l'opera anche come testo teatrale, insomma, lo aiuta molto questo. Esatto, perché oltretutto la trama che potrebbe a una prima lettura sembrare intricata, in realtà dimostra di essere molto lineare e di avere una propria attualità. Sì, infatti per la Duca di Mantova, la corte del Duca di Mantova, è una corte corrotta, infatti c'è questa prima scena che è quasi un baccanale dove ci sono le orge e sappiamo, senza fare dei riferimenti, che queste cose succedono purtroppo anche ora in qualche casa di cui non parliamo, ma sappiamo che succedono queste cose. Ecco, per l'altro all'epoca, si parla del 1851, fu la censura a imporre che si parlasse del Ducato di Mantova, che non c'era più, invece di parlare della gente che comandava all'epoca. Certo, del re di Francia, infatti questa cosa qui, tra l'altro, anche quando è stato fatto a Parigi per stoppere il re si diverte di Vitorgo, è stato censurato e tolto dalla scena, quindi era un'opera già allora molto violenta, insomma c'è lo stupro del Duca che fa Gilda, la protagonista, quindi ci sono delle cose ancora molto forti, ma la cosa grandissima di Verdi è che attraverso proprio la musica sua, come ripeto, Verdi è una grande amante del teatro, perché fa il Falstaff, il Schiller, insomma ha toccato tutti questi grandi autori teatrali e attraverso la musica veramente ha restituito lo stesso atmosfera, lo stesso pensiero dell'autore drammatico in musica, quindi è una cosa veramente unica, straordinaria, credo che sia stato forse uno dei pochi, anche se altri hanno attinto da opere teatrali, però lui in particolare secondo me è quello che più di tutti riesce quasi come un medium a interpretare il pensiero dell'autore e a riportarlo in musica anche nella traviata di Dumas, riesce proprio attraverso il romanzo di Dumas a restituire quell'atmosfera, il tipo di musica che è totalmente diversa da quella di Rigoletto, che è totalmente diversa da quella di Otello e così via, quindi è il vero grande genio, proprio come se entrasse dentro, quello che poi dovrebbe fare un attore quando interpreta Hamlet oppure quando interpreta appunto il Re si diverte di Victor Hugo, sono due personaggi diversi, quindi uno deve interpretare dentro il pensiero dell'autore e riuscire a distinguere, questo è quello, lui lo fa con la musica, quindi è veramente un'esperienza che io conoscevo l'opera, lo conoscevo perché come ripeto io sono anche figlio d'arte, però trovandomi a fare anche l'attore in questo opera e trovandomi a seguire la regia ho capito di più quanto questo Verdi è stato uno dei più grandi geni musicali di tutta la storia del melodramma. Ecco, fra l'altro si parla tanto di Verdi proprio quest'anno in occasione dei 150 anni dell'Italia e sicuramente Verdi è uno dei compositori, degli autori che più hanno interpretato la voglia di risorgimento. Certo, anche questo è fantastico perché se sentiamo proprio il famoso coro del Nabucco va a pensiero come ci porta proprio a sentire questi uomini diseredati, questa gente che soffre, questi che non hanno patria, la voglia di una vera patria, in quel momento l'Italia aveva voglia veramente di un'unità, di una vera patria e quindi Verdi credo che abbia contribuito anche con il suo genio, come grandi artisti contribuiscono sempre per portare avanti la storia e quando dicono che a volte l'arte non ti fa mangiare, no l'arte ti fa mangiare come? Perché è stato detto più volte che l'arte non ti riempie la pancia, no ti riempie qualche cosa di più che è lo spirito e attraverso questo la gente va avanti, la gente comincia a credere di più nel futuro e comincia anche a pensare ai propri figli, a quelli che verranno dopo, non soltanto rimanere circondati da un egoismo sterile che non porta nulla, quindi questa cosa Verdi ce l'aveva e lo sentiva e ha contribuito molto a fare crescere l'Italia, purtroppo poi ci sono stati dei momenti bui anche dopo, anche ora, però bisogna sempre sperare per il futuro. Ecco, mi sembra che sia pertinente il collegamento alla situazione attuale del teatro, proprio oggi alla radio ho sentito attraverso Gian Varietà e il programma di Gianluca Guidi una bella notizia, cioè si farà un grande teatro, credo a Vigevano, però la situazione in generale è critica. È molto critica, meno male che c'è stato un reintegro del FUS che sarebbe il fondo unico dello spettacolo e questo ci ha dato un po' d'ossigeno, però rimane critica perché con questi tagli quello che è stato penalizzato di più è stato proprio l'arte, lo spettacolo e quindi stiamo tutti molto soffrendo e tirando avanti, ci siamo quasi tutti dimezzati le paghe e non è poco perché tutti quanti stiamo facendo dei sacrifici per non fare morire il teatro e io lo faccio molto volentieri sperando che le cose possano cambiare e che ci sia veramente qualcuno che comincia a pensare che investire sull'arte significa investire anche sull'economia e se si pensa che bisogna investire soltanto in certi settori dell'industria, dell'agricoltura si sbaglia, c'è l'industria, c'è l'agricoltura e c'è l'arte e se non si investe in tutte queste cose e si investe solo in altri settori e non si investe nella ricerca per esempio in tutte queste cose qua, lo sviluppo non può andare avanti, non può crescere. Un altro problema di cui credo abbiamo già parlato anche nell'altra intervista è anche la latitanza dell'opera e del teatro in televisione escludendo forse applausi di Gigi Maggiullo che però è a tarda sera. Sì, infatti non parliamo di quello che succede in televisione perché anche lì quando si fanno gli sceneggiati si tiene conto, si racconta la storiella, non si va mai ad approfondire i contenuti, io quando facevo i fratelli Caramazzo c'erano, che poi tra l'altro i fratelli Caramazzo è stato fatto da un grandissimo scrittore che era Diego Fabri, la sceneggiatura dei fratelli Caramazzo, ma ci sono degli interi capitoli che sono riportati così come sono scritti, non è solo il riassunto di questo capitolo, è proprio tutti i dialoghi sono quasi riportati interamente dai fratelli Caramazzo, infatti erano 5 puntate e queste 5 puntate hanno segnato la storia e quindi la gente crede che ora sia noi a sentire, io sento gente che mi ferma, dice l'altra sera ho rivisto i Caramazzo nelle televisioni fuori dai canali tradizionali e dice sono rimasto stupito, ci sono addirittura dei giovani che lo rivedono e rimangono a bocca aperta, non capisco perché, la televisione investe sempre ormai come se fossero tutti degli sceneggiati da 4 lire, 4 lire per modo di dire che poi costano di più di quello che sono costati la produzione dei Caramazzo, è proprio una scelta per fare non pensare la gente, invece bisogna farla pensare e dicere ma è stanca, poi viene dopo aver lavorato, dopo una giornata va di cosa? No, la gente ha proprio sete di vera cultura, ha sete di queste cose e quindi anche questo purtroppo io mi sono rifatto col teatro e quindi nel teatro la gente va sapendo che si fa una cultura e quindi meno male che mi è rimasto il teatro perché sugli altri mezzi e gli altri canali televisivi non ci credo assolutamente, a parte che ti vedi un bel film ogni tanto quindi va bene così, però basta per quello che riguarda la produzione italiana è quasi sotto zero, non è neanche a zero, è sotto zero, la televisione italiana in questo momento è sotto zero, io lo dico perché io ho quelle esperienze, io so qual era la televisione fatta bene e quella che voleva il pubblico, per cui la ignorano diciamo al teatro annoia, certo che se tu vieni qui, prendi uno spettacolo teatrale dal teatro, lo filmi così com'è, può anche annoiare perché allora lì è vero che ci vuole il pubblico presente perché ti dà l'emozione, ma se tu fai un'opera teatrale come facevamo ai nostri tempi con gli interni, con tutti gli ambienti veri e propri, allora l'opera teatrale viene eseguita come un film, non si annoia assolutamente il pubblico. Ecco faccio una premessa naturalmente per chi non conoscesse particolarmente bene il nostro interlocutore, ma dubito ci sia qualcuno con queste problematiche, vale a dire Antonio Salines di certo non è una persona che è prioristicamente escettica nei confronti della televisione, anzi tu hai partecipato anche a trasmissioni televisive caldo come il Maurizio Costanzo Show. Sì, no, indubbiamente, ma questo non vuol dire che ho fatto soltanto, la televisione l'ho fatta come attore, quando, anche ultimamente ho fatto Elisa Drivombroso, ho fatto l'ultimo Puccini, certamente non sono quelle cose, perché sono un attore e se mi chiamano io vado a fare anche queste cose, però certamente sono cose che non hanno niente a che fare con quello che era il teatro degli anni 70 e degli anni 80. Ecco, torniamo un pochino allo spettacolo, all'opera che andrà in scena domani e dopodomani qui a Pergine. Intanto mi sembra importante parlare della scenografia, diciamo chi è lo scenografo e raccontiamo che cosa si è riuscito a fare. Sì, abbiamo fatto, credo, in un modo nuovo, una scenografia multimediale che restituisce quello che tu vedi in teatro. Ora, se poi facciamo vedere ai tuoi amici e ai miei amici com'è ora la scenografia che non c'è niente, e su questo, diciamo, spazio vuoto verranno proiettate delle immagini che sono le scene descritte da Verdi, volute da Verdi per il Rigoletto e vengono tutte proiettate, però vengono proiettate in un modo nuovo, non è che vedi soltanto una proiezione come fosse un quadro, vedi una proiezione tridimensionale, per cui vedi un salone enorme, invece abbiamo pochissimo spazio, vedi un giardino, vedi un fiume, tra l'altro il fiume, vedi che l'acqua si muove pure, quindi ci sono queste cose che secondo me possono essere innovativi, specialmente per le opere liriche e non è esclusa anche per il teatro, perché poi per farle ci vuole molto tempo, non è che le puoi fare così, devi essere tutto molto calibrate, ci vuole molto lavoro per ottenere questo, però non senti più l'esigenza della costruzione, perché quando è così visivamente è lo stesso effetto di una costruzione, certamente questa cosa avrà un avvenire, sicuramente ci sono fuori dall'Italia, anche in Italia, si fanno già delle esperienze molto interessanti con questa cosa, noi l'abbiamo immaginato, un'opera che in genere costa, sappiamo benissimo quante centinaia di migliaia di Euro costa mettere in scena un'opera, in questo modo costa meno, ma meno, ma meno della metà, e non ti manca niente, l'occhio dello spettatore è appagato, perché in quello che abbiamo scelto per proiettare, io non le chiamerei proiezioni, sì sono delle proiezioni, ma è qualcosa di diverso, perché la proiezione poi viene aggiustata con le luci vere, che sono quelle che si adoperano sempre in teatro, per cui anche gli attori vengono illuminati in un certo punto ed è molto difficile che combaci tutto, però quando ci riesci è un risultato, come credo ci siamo riusciti noi, eccezionale, poi casomai se durante una prova, che ora non facciamo la prova con l'orchestra stasera, perché facciamo soltanto una prova a luce con gli attori e i costumi, se prendi qualche pezzetto così farai vedere anche di che si tratta. Molto volentieri, ecco mi diceva Salvo Manganaro che fra l'altro grazie a questa scenografia tridimensionale è possibile risolvere i problemi di un palcoscenico, ad esempio come quello su cui si reciterà domani, che misura una profondità di 7 metri contro i più di 14 della scala di Milano. Certo, infatti è questo la cosa, a parte il vantaggio ma anche le costruzioni, perché se tu pensi che per costruire, quante sono qui, 4 scene, per costruire 4 scene in legno, con le pitture, così, pensa ai soldi che tu devi spendere, e poi queste cose cosa fanno? Vanno a finire che le butti via, per cui fai tanto, vabbè ci darei lavoro ai tecnici perché anche ci sono le manovalanze del teatro che deve pure lavorare, per carità non lo metto in dubbio, però ci sono anche, e lo sappiamo, tanti sprechi. Noi come prosa ci siamo accorti di questo, stiamo facendo tutti gli sforzi, tutti quanti a cominciare dalle paghe degli attori, ma anche a cominciare dalle costruzioni, di eliminare cose superfue, perché il pubblico ormai, se vuole vedere le cose belle, c'è la televisione che ne vede, l'occhio è abituato a vedere di tutto, per cui il teatro più viene fatto come teatro povero, più ha importanza la parola nel teatro e la musica, in questo senso qui nell'opera lirica. Ecco, parliamo anche dell'orchestra Rossini di Pesaro, che accompagna gli attori durante la loro presenza in scena. Sì, è una scherza eccezionale, diretta da Daniele Agi, ma anche un maestro di musica splendido, perché ha una sensibilità incredibile, quindi accompagna proprio con i suoi gesti tutta questa poesia che pervade l'opera di Verdi e poi tutti questi cantanti giovanissimi, tra l'altro anche a cominciare da Rigoletto, che non ha neanche 45 anni e quindi si sa che Rigoletto deve essere un vecchio, però la fatica che fa l'attore, il cantante che interpreta Rigoletto è enorme, e quindi sappiamo benissimo che questo ci mette un'energia incredibile, e poi c'è il Duca di Manto, la Gilda e tutti gli altri che sono veramente dei giovani, eccezionali insomma, quindi è un'edizione credo che rimarrà come esempio per tanti che vogliono fare l'opera lirica cercando di avere più che dei soldi delle idee. Ecco, menzioniamo i cantanti e gli attori più importanti di questo, chi c'è intanto... Ma puoi leggerli tu perché... Sì, ecco, allora, la voce recitante di Rigoletto è appunto Antonio Salines, mentre invece il baritono che interpreta Rigoletto è Maurizio Leoni, abbiamo poi Gilda, il soprano, vale a dire Romina Casucci, abbiamo il Duca di Mantova, Diego Cavazzin, abbiamo Maddalena, contralto, che è Elena Serra, abbiamo poi Sparrafucile, il basso, che è Giuseppe Di Paola, che interpreta anche Monterone, basso anche in questo caso, poi abbiamo un tenore, vale a dire Borsa, che è interpretato da Roberto Garniga, ed infine la Contessa di Ceprano, che penso piaccia a tutti, che è il soprano, e qui è un'attrice giovane, Giulia Eichner, che viene dall'Alto Adige. Esatto, è di Brunico, ed è molto brava, e una prossima Gilda, diciamo, perché comincia ora, quindi arriverà anche lei, insomma, perché è un altro soprano, e arriverà anche lei un giorno a fare Gilda, che è molto brava, è anche molto brava come attrice, quindi, ma tutti quanti sono veramente, ce l'hanno messa tutta per assecondarmi, è la prima volta che ho a che fare con dei cantanti, e devo dire che l'ho trovato molto moderni, rispetto a quello che noi abbiamo in mente del cantante lirico, insomma. Ecco, poi in ultimo menzioniamo anche Chiara Deffant, che è la costumista, perché i costumi... Sono stupendi, dei costumi nuovi, assolutamente che accompagnano proprio, veramente è stata una rivelazione, io la conosco Chiara da anni, perché ho lavorato con lei tantissime volte, però qui ho toccato il massimo della sua bravura, della sua invenzione, proprio brava. Ecco, e non so se in sottofondo si sia sentito anche il pianoforte, è Enrico Gerola, che suona e che aiuta i cantanti durante le prove, soprattutto. Certo, durante le prove, poi durante lo spettacolo, come direttore di scena, manda dentro le persone, quindi ha delle funzioni di responsabilità grandissime. Ecco, io credo che ci stiamo avvicinando alla fine della nostra intervista, e fra l'altro per chi lo volesse, ricordo ancora che abbiamo realizzato anche un altro video qualche mese fa, e lì parliamo anche della tua carriera, quindi sono quasi complementari le due interviste. Grazie a tutti, io saluto tutti i tuoi amici, e li ringrazio perché so che questa cosa mia che avevo fatto con te prima è stata seguita da tanti, anche tante persone che io non conoscevo, mi hanno detto, guarda che ho visto la tua intervista, vuol dire che il tuo sito è molto seguito, e continuate a seguirlo più possibile, e potete anche scriverlo, no? mettervi in contatto, grazie a tutti. Ecco, un grazie anche da parte mia, devo dire, abbiamo parlato prima dei problemi dello spettacolo, anche il giornalismo vive i suoi, chi vi parla ha scoperto che ingegnandosi in qualche maniera è possibile trovare uno spazio, per quanto piccolo, attraverso le nuove tecnologie di internet, ad esempio. Ecco, quindi vi rimando anche ai brevi spessoni che gireremo fra oggi e domani, relativi allo spettacolo, così potrete ammirare le scenografie, la bravura del regista Antonio Salines, e dei cantanti, e di tutti, l'apparato tecnico, anche qui del teatro di Percine, che sono veramente bravi, ci sono tutti i tecnici che hanno lavorato anche loro, alle luci, alle scenografie, e a tutto, insomma, grande esperienza, sono tante persone che lavorano per l'opera lirica. Ecco, infatti, Percine da tanti anni, durante l'estate, allieta... Anche la direttrice artistica, bisogna nominare, Cristina Pietrantonio, per cui abbiamo completato un po' tutto il cast di questo lavoro di Percine Teatro. Ecco, quindi grazie a tutti e a voi una buona giornata o una buona serata, a seconda di quando deciderete di visionare il nostro video. Grazie.